Una macchina ad aspettarvi alla banchina. Lincoln, state attenti, ok? Sia tu che Ellis. Tranquillo. Sammy ci manda un'auto. Sarà alla banchina di carico del negozio. Io benedica quel vecchio. Andiamo! Passa dal bar, Lincoln. Timmi su chiacazzi. Vogliono dirne che è finita la festa. Lo dico io. Quando è finita questa festa? Stiamo ancora ricevendo aggiornamenti. Ma pare che la Federal Reserve nel centro di New Bordeaux sia stata rapinata. Una forza interna al Dipartimento di Polizia ci ha detto che molte quarti della banca sono state uccise e che i rapinatori sono fuggiti con sbariati milioni di dollari. Cazzo, hai sentito? Abbiamo fatto notizia. Sta zitto, George, dobbiamo muoverci. È stata trovata abbandonata davanti al Fred Gorda. Tutte le unità imponente. Non senti solo un maschio negro, alto circa 1,90 e un maschio bianco, alto circa 1,80. e due complici ignoti. Sono armati ed estremamente pericolosi. Cazzo, hanno trovato la barca! Mantieni la calma, ce la possiamo fare. Chiedo scusa! Scusate. Chiedo scusa! Mi dispiace. C'è colpo. Tranquilo, ragazzo. Sei fortunato che non ti lascio a smantire in un fosso. Non dovevo bere così tanto. Smettila di muoverti! Chiedo scusa. Attenzione. Guarda dove vai! Come va? Smettila di muoverti! Guarda dove vai! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Unità di supporto. Verso contatto visivo con il sospettato. Unità di supporto. Niente di niente. Andiamo laggiù.